L'ingresso è dalle sette e mezza alle nove e mezza la mattina, poi li puoi ritirare dall'una e mezza alle sette e mezza la mattina, poi lo puoi lasciare anche qualche ora di attrazione. Oddio, sai, indubbiamente, ma poi sai, il discorso è anche questo secondo me, che in carità è un lavoro come il mio, bene male, ma ora se lo sei, lo sei giusto, eh. Ma poi sai anche cosa, anche crescendo, bene male quando sarai in vacanza al mio scuola sono in vacanza io. E' chiaro. Mentre, anche io, dovevo stare qui, ovviamente, e ragazzi, in carico, dovevo stare qui, sperato perché io devo dare qualche lettura, dovevo cercare un altro, dovevo andare a lavorare. Via, vado in lato, perché sennò non mi muovo più. Ok. Sveglio? No, no, sta dormendo. Sveglio? E' quest'odice che è lancerito. Patti è un pacostore. Es warmamente a casa come si sta avversavova o al прирunzato del mare. Vai, forza! Piscia! Piscia! Gliacin Pagliar 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 Grazie. 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 Questa è un dormiente, detto marzuolo che viene quando è piaciuta la neve e addirittura anche cresce sotto la neve. Marzuolo. Dormiente. Ora lo scopriamo. bianco sotto altro dolmiente piuttosto grosso sono sotto la terra sotto la neve non 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 Grazie. 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 Mishu. Basta. I ripigli? Sì. Con i occhiali? Con il REC? REC devi stare registrando. Grazie. 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 Si governa? Eh... Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. a tutti. a tutti.